Ok, allora riduco a questo, io da tre mesi, poi per una parte di dieci giorni gli ho inviato i dati, ma da tre mesi ho iniziato a utilizzare anche l'app per la misurazione della variabilità della frequenza cardiaca e devo dire che due cose, io diciamo come paziente ribadisco che auspicherei che venisse utilizzata veramente da tutti perché secondo me ha delle potenzialità incredibili, lo dico da paziente. Quello che ho rilevato è che quello che lei ha inserito in un post molto, secondo me, molto interessante è che diciamo più è basso il valore che io ottengo e più diciamo sembra che ci sia resilienza da parte mia, non so se il termine è giusto. Il problema è che in realtà ufficialmente è il contrario, usate nello sport, molti magari sanno anche se si tratta, usate nello sportivi, in realtà si dice l'ideale è avere i valori alti perché c'è un buon controllo. Lì io sospetto che lo stress esterno, vi ricordate, attacco e difesa, che l'aver i valori molto bassi sia un indice di molto attacco esterno, ma avere i valori molto alti sia un indice di una cattiva difesa. Tant'è che molti pazienti, non tanti, molti pazienti mi stanno riportando o segnalando che effettivamente trovano valori più alti in occasione delle fasi di peggioramento, che è esattamente il contrario di quello che la medicina ufficiale dice. Ecco perché più dati abbiamo, più ci capiamo qualcosa, ma ce ne avrò una quindicina per ora. Certo, infatti. Io posso dire che nel mio caso è esattamente così. Sto puntando molto su quest'app perché ho notato che nel momento in cui il valore si alza, sempre io ho delle situazioni di stress e di cattiva qualità del sonno. Per cui, siccome la misurazione del peso specifico la vedo un pochino più diretta, cioè è sempre di un giorno, diciamo, l'aumento del peso specifico, come dire, preannuncia sempre più o meno di un giorno prima l'arrivo di un sintomo, di una recidiva. Questo è sempre stato così due o tre volte nel corso dell'anno. Nel caso della misurazione... Mi domanda, perché poi rivedendomi la riscrizione dell'altro giorno, mi sono posto di una domanda. Avevi detto che in realtà hai avuto due vere fasi di recidiva, sostanzialmente. Sì, corretto. Ho saputo bene. Quelle sono quelle proprio in cui stara di parecchio il peso specifico, ma i peggioramenti corrispondono a piccole variazioni. Cioè, tu hai trovato anche una corrispondenza quantitativa, in un certo senso? In generale sì, 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 assolutamente. Però ecco, dicevo, per me la misurazione del peso specifico è come... ed è utilissimo, ovviamente. E' affacciarsi fuori dalla finestra e vedere, diciamo, il tempo. O magari vederlo con un giorno prima. Stanno arrivando le nuvole. Ho visto, ho notato, la mia percezione è questa, che nel caso della misurazione della variabilità della frequenza cardiaca, questa cosa lo preannuncia molto, ma molto più... molto prima. Ecco, questo secondo me. E quindi, secondo me, potrebbe dare un tempo, credo, per prevenire. Integrando le due cose si potrebbe ottenere il risultato migliore. Assolutamente. In questo specifico, minimo complicata. La cosa dell'app è di una facilità estrema. Sì. Ve la potrei anche mostrare qua a video, da questo punto di vista. Se aspettate un secondo solo, vi metto... ci metto un attimo. È semplicissimo. Sì, no, ve lo faccio vedere con l'app nuova, questa nuova app che... Ci metto un attimo, se non mi ricordo dove ho messo. Ecco, per dire, guardate, eh. Io adesso, per dire, ho messo già il dito. Eccolo qua, ho aperto l'app. Ok, dove sta? Tocco, metto il dito qua. Tocco. Lui automaticamente mi dice detecting. Ecco, chiaramente, siccome ho... Ah no, ho il dito sulla parte sbagliata, non può detettare niente. Questa è la nuova? Sì, questa è l'app nuova. Ah. Vabbè, adesso non so neanche se stia... Non sta prendendo la pulsazione, perché... Eccola, adesso comincio a prenderla. Vedete il battito cardiaco che prende attraverso il dito? Sì. Adesso non mi ricordo se ce l'ho impostata su un minuto o su due minuti o cosa. In realtà se la faccio per due minuti... Vedete, lui sta facendo una registrazione. Vabbè, adesso è un po' scomodo. Sì, sotto c'è il grafico della variabilità. Che sta rilevando. Poi alla fine, ecco, guardate. Alla fine mi fa... Non so se mi fa l'analisi perché l'ho... Ecco, sì, me la fa. Alla fine mi dice sostanzialmente il valore dell'HRV, il valore della frequenza cardiaca. Quei dati baseline si riferiscono ad altre misurazioni fatte. Facendo così in maniera... Fate un minuto di gusto, ma che ci vuole? Secondo me è semplicissimo e se riusciamo in questo modo a lavorare sull'abbassamento della resilienza e quindi l'attivazione dell'ormone antidiuretico, giusto? Secondo me è una cosa importantissima, ecco, mi permetto di esprimere il mio parere. In specifico io lo so che con certezza ci sono delle correlazioni. Ci può permettere pure di valutare chi esempio concentra molto di notte. Sull'HRV sono le mie supposizioni che necessitano di conferma, ma se non mi aiutate voi è difficile andare a qualche parte. Ok, volevo solo aggiungere una cosa, Andrea, solo questo. Posto che, diciamo, insomma, in questo momento io neanche a cercarlo ho l'acufene, quindi in questo periodo è proprio sparito, sono tornato al pre-sintomi, volevo aggiungere che sempre in questo periodo ho avuto una, diciamo, una situazione di... Io sono tornato al pre-sintomi, non ho capito. Sintomi di acufene. Sono tornato? Sono spariti. Sono tornato al pre-sintomi, quindi sono tornato a... No, 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 pre, al periodo pre, quindi questa è una condizione molto favorevole, però nello stesso periodo, in quest'ultimo mese ho avuto una condizione di colite, quindi infiammazione intestinale molto forte, io ne soffro da sempre. Quindi sto cercando di lavorare appunto sull'app, perché c'è qualcosa che, nel mio caso, a livello di resilienza, come diceva lei, siamo un po' fraciconi, quindi c'è qualcosa che non va, quindi non so come dirlo tecnicamente, ma questa energia negativa da qualche parte va a parare, sembrerebbe, e io non sono capace di gestirla. Alternativa, ma qui è lo stress, voi sapete che lo stress... Certo. ...e la parola dei medici, quando non ci hanno capito niente, per dirvi è lo stress, perché vi danno la colpa a voi. Qui no, è lo stress, ma questo l'avete capito tutti, siete nei pazienti. E quindi la misura della frequenza, della variabilità della frequenza cardiaca? La misura della frequenza cardiaca, perché qui non ho preparato nulla, non c'è nessuna lezione, quindi se no poi mi scordo. Io sto lavorando su un'app che ho trovato, che si chiama Dailio, un'app che ho trovato, che permette veramente la totale personalizzazione, l'ho annunciato su Facebook qualche giorno fa, ma adesso datemi il tempo di sistemare il sito, sto lavorando a un matto in questo periodo, però quella permette veramente di metterci dentro tutto, immagini dell'esame geometrico, i valori dell'HRV, cioè in una sola app potremmo gestire tutte le correlazioni che avete trovato, vi può fare da promemoria per l'acqua, da promemoria per i farmaci. Magari. Ed è praticamente gratuita, nel senso che c'è un abbonamento mensile di un dollaro, due dollari, quindi è una cosa molto molto valida. Io adesso personalizzerò l'app, vi darò, non posso chiaramente modificare la vostra, che scaricate, ma preparerò prima per segnarvi come dovete mettere le varie voci in modo da poterla utilizzare. Tutto questo per i discorsi che faccio a te. Giuseppe Gargiulo, Emiliano, posso parlare? Grazie. Grazie a te. Giuseppe, Emiliano, basta la mano e chiudi il microfono. Giuseppe, mi attivi là. Eccomi qua, Doc. Allora, Doc, è il mio modo di darle del tuo, la chiamo Doc. Dunque, rapidamente, per quanto riguarda le recidive, io ho imparato a gestire le mie recidive, tenendo presente che il mio incubo è finito nel 2017. Non ho partecipato al primo meeting, quindi non ho potuto raccontare la mia esperienza. Comunque, diciamo che dal 2017... Avevo già 5, non avevamo il tempo di prendere altri. Sì, no, 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 nessun problema. Diciamo che le mie recidive consistevano nel fatto che aumentava l'acufene e mi si chiudeva l'orecchio. Però ho imparato a gestirlo, nel senso che facevo un carico idrico più importante e quindi mi si appassava. Dov'è che io mi accorgo che, diciamo, la situazione potrebbe peggiorare? Ossia potrebbe subentrare anche il disequilibrio e probabilmente anche una vertigine. Allora, quando a quella acufene accettabile, diciamo, che io tengo perennemente, si assoggia un soffio e poi ho scoperto, quasi per caso, ve ne parlavo la volta scorsa, ci siamo sentiti... Passo, tranne quando stai recidiva, adesso vabbè, ho messo in terapia da poco, di nuovo, tranne quando stai recidiva, però, quando dici, l'acufene ce l'ho sempre, ma ce l'hai a livello... Sì, sì, accettabile. È quello che abbiamo accettato, dottore. Quello che abbiamo accettato. Quindi, le dicevo, io mi rendo conto che invece la situazione potrebbe peggiorare quando alla lieve acufene si aggiunge questo soffio, che è lieve, e poi, le dicevo l'altra volta, l'ho scoperto quasi per caso, se io metto il ditino come se magari mi pudesse l'orecchio, metto il dito, mi si sdoppia la vista. Ho uno sdoppiamento della vista. Hai già commentato che quello non lo so spiegare assolutamente. Ok. Ma quello purtroppo non ci capisco niente. Ok, no, giusto magari, chissà, qualche collega capitava la stessa cosa. Però già va bene, dottore, quindi le anticipo che siamo già a buon punto. come strategia di prevenzione recidiva, quello poi è l'obiettivo che cosa stai utilizzando? Cioè, nel senso, quando dice, il fatto del bere l'acqua nella maggior parte dei casi già basta, aumentare il carico idrico già tiene sotto controllo? No, a dire il vero, dottore, l'acqua, aumentare l'acqua e uso... Scusa, quello che dovreste fare di utile, come ha fatto Emiliano con il discorso della valutazione strumentale, è dare il vostro parametro aggiuntivo, se l'avete trovato, per dire, lo sapete, che io ho notato che è questo, questo, quest'altro. Cioè, come lui, ad esempio, ha detto, il fatto che si modifichi l'acufene può essere, come ha detto Giuseppe adesso, il fatto che si modifichi l'acufene può essere un indice che la situazione si sta modificando, perché una cosa è la base, una cosa è un sintomo che è accompagnatorio di previsione di altro. Anche quello può essere, se voi avete individuato un sintomo che guarda caso, tutte le volte che arriva a quella componente o quel sintomo, poi è seguito, quella è la nostra nuvoletta che può farvi capire che dobbiamo intervenire. Però nel caso specifico, Giuseppe, come interveni? Nel senso, cosa fai di solito? Ti metti a dieta, subito? No, 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 volontariamente no. Se ho, diciamo, casi seri, contatto lei. No, solitamente io aumento il carico idrico e faccio uso dell'Otovent. Mi aiuta tantissimo. Sì, mi aiuta tantissimo. D'accordo. Allora, io attualmente non prendo nulla, ce l'avamo già sentiti, però sto mantenendo il regime sia dell'acqua, non tre litri, ma sono su due litri al giorno, e il sistema di alimentazione che è, diciamo, quello di mantenimento anche nell'alternanza dei cibi perché mi sono trovata bene. Vedo però che in questi giorni sto avendo come purtroppo succede, dall'inizio di questa settimana ho avuto dei cambiamenti nel lavoro. Ci sono state delle tensioni. Non ho, non posso dire che sì, io ho sempre la cuffia, non è mai, cioè è calato, ma non è mai sparito totalmente, anche perché era a livelli veramente molto, molto forti, molto fastidiosi, quindi è, diciamo che in uno stadio di accettabilità. Ecco, io l'unico, io purtroppo la prima volta che ho fatto la terapia l'ho portata fino al cortisone e ho avuto degli ottimi risultati. Non ho potuto continuare perché era il periodo di febbraio-marzo della, della, diciamo, del lockdown. Quando poi mi sono informata perché volevo ripetere la terapia completandola con la, la fleboclisi, ho trovato delle grosse difficoltà. io trovo difficoltà nel poterle fare. Ecco, allora, difficoltà per non trovare un infermiere, ecco allora, che tra due anni non lo fanno, assolutamente. Parola in un attimo, io ho creato ed è già attivo da tempo, adesso lo pubblicizzerò meglio e lo metto per le pazienti, un database infermieri che vi prego di quanto utilizzare perché troppo nell'ambito del gioco di squadra qui c'è il problema che gli infermieri non vogliono venire a casa o perché c'è il lockdown, non lockdown, ma pure prima perché ah, questa terapia è strana, allora l'unico modo è che chiunque fa le flebocrisi con un determinato infermiere metta a disposizione i dati di quegli infermieri in un database pubblico che sarà poi collegato alla pagina flebocrisi del sito dove chiunque poi va lì se lo mette in ordine di provincia, di comune, più ce ne abbiamo e meglio è, ma che ci vuole ad esempio a fare questo? Ci avrò cinque segnalazioni, sono tre anni che l'ho messo, sono piccole collaborazioni che a voi non costano veramente niente, a me costano fatica ad inventarmele ma che possono cambiare la vita degli altri pazienti. Qui mi state riempendo, siete bravissimi, molti mi danno un sacco di contributi amministrativi, mandano i 15 euro, 20 euro, cose che permettono di aiutare i futuri pazienti con la solidarietà, ma solidarietà vuol dire non è solo economica, vuol dire pure che dobbiamo e anche la collaborazione. Guardi, il concetto di cui stiamo facendo una lotta insieme contro una medicina che fa schifo e gestisce le cose fatte a cavolo di cane e dobbiamo sentirci la parola che ho usato sempre prima, collega, non è che è un lavoro fare il paziente, però veramente cioè è una cosa bella del mio modo di lavorare che veramente non vi tratto mai a parte dare continue disposizioni, ordini o richieste, non vi tratto mai come i sottoposti che devono fare quello che dico io che sono il dittatore, è proprio un gioco di squadra, cioè andiamo tutti quanti a vicenda, per cui queste piccole iniziative, vedi la storia dell'HRV che può cambiare tanto, della variabilità di un serbiaca, sta cosa agli infermieri, ma che ci vuole? Voi ci mettete il dati dell'infermiere e io devo dire che l'ho pubblicizzata poco, adesso ci saranno l'area paziente nuova e non è un obbligo perché non solo può obbligare, è anonimo pure oltretutto, non si sa mai come mettete il nome, voi segnalate l'infermiere che è disponibile a fare le plebo, ci mettete pure un giudizio se è stato preciso, disponibile, eccetera, eccetera, a quelli che a botta sicura, salvo che non abbia cambiato idea, questo mi può aiutare perché guardate che anche questo è un grosso problema, abbiamo il problema della camera iperbarica che rompe le scatole, l'infermiere rompe le scatole, il medico di base che rompe le scatole, la farmacia rompe le scatole, stiamo facendo una lotta contro i mulini a vento, diamoci... Il problema delle volte non è trovare l'infermiere, è che l'infermiere dice se non c'è un medico io non faccio la plebo perché loro dicono che posso avere dei problemi, dico, vabbè, quello può essere una... Dicono anche che la Red Bull mette le ali, ma non credo che mi sono... Sì, vabbè. Non toglie che io su Padova, io vivo a Padova, ho una grossa difficoltà a trovare qualcuno che mi faccia la plebo, quindi io non riesco mai a completare la terapia. Se qualcuno ha gli infermieri in zona Padova, trasmettiamolo, ok, perché... Fermo rimanendo che poi dopo comunque in ogni caso tocca rifare terapia per le proprie. Certo. Chiedo scusa che prendo sempre la parola ma ovviamente devo intervenire. No problemi. In realtà non ho mai fatto vera cura, si sono fermati troppo presto, molti hanno fatto il luore di dire ah, mi ha fatto già il miracolo di curarmi le vecchie, questo l'ho detto pure l'altro giorno in videoconferenza, quindi mi devo accontentare e poi dopo non si accontentano più, quelle non sono le recidive, niente, è una cura incompleta. Quando parliamo di fare la cura dovete immaginare che la mia è una terapia stati dove dovete andare avanti, se volete, ce la fate, andare avanti fino a ottenere il risultato il migliore possibile. Se vi siete fermati troppo presto, diciamo che se io devo pulire casa e in realtà ho fatto l'obbligo in maniera molto superficiale e poi non mi posso lamentare che prima e dopo vi è di nuovo sporca, capito, un giorno dopo è tutta la stessa cosa. Quindi, ho lo stesso per fare un esempio più tecnico, se io devo ripulire la memoria del mio computer e l'hard disk del mio computer e mi limito a togliere alcune cose ma lo lascio che sono rimasti tre giga disponibili e dice ma come è possibile? L'ho pulito l'altro giorno ed è già tornato ad essere pieno tre giorni dopo. Non ho fatto una vera pulizia, è la stessa cosa non ho fatto una vera pulizia dell'idrope se ho fatto un po' dell'Europano su un po' d'acqua ma siccome ho ritenuto di potermi fermare nonostante non stessi realmente bene dovete sempre calcolare che non dovete fare né troppo né troppo poco. Ma difatti io avrei voluto continuare la cura perché stavo avendo degli ottimi risultati. Sì, non posso venire a fare le flebo direttamente anche ho messo due flebo in vita mia quindi ragionare e chiacchierare va bene ma iniezioni avrò fatto tre iniezioni in vitamina e fleboclisi avrò fatte due in vitamina quindi non mi consiglio non mi cambio bravo Dottore buongiorno e grazie per questo meeting è una cosa da rifare comunque ma lo faremo una volta su temi diversi dai Dottore volevo sapere se c'è una correlazione fra battiti cardiaci bassi e quindi parliamo di bradicardia è il problema di diciamo diseguilibrio teoricamente nessuna nel senso che non ci dovrebbe essere nessuna relazione anche lì poiché il battito cardiaco regolato dal sistema neurovegetativo però di solito dovrebbe essere più per l'attacchi cardia cioè per la maggior attività del simpatico rispetto al parasimpatico ma comunque ci possono essere correlazioni ma non ce l'ho dirette da questo punto di vista poi un'altra cosa nello studio dell'HRV è previsto anche lo studio della frequenza cardiaca ma in realtà mi serve poi un'altra cosa dottore non fate tanto domande a me quelle poi ce le facciamo raccontate voi quello che avete notato cioè date il vostro allora io io sono sono in terapia da circa un anno e mezzo nel senso che sta prendendo farmaci da un anno e mezzo senza fare il controllo no le ho fatti i controlli con lei le ho fatti da quant'è che non la vedo facciamo un mese che non ci vediamo un mese però che ci sentiamo cioè che non ci vediamo più di un mese diciamo tanto di più vabbè dai queste sono cose private però ci siamo sentiti su whatsapp guardate io applicherò guardate io applicherò in maniera rigida al nuovo regolamento se sparite per più di tre mesi io che faccio fuori come paziente poi vi punisco facendo pagare i contributi che pagate le multe diventeranno un sistema per darli ad altri pazienti che magari devono fare esami o altre cose ma veramente vabbiamo la multa poi vi riammetto come paziente vi faccio ripagare perché non vi costa niente pure dal cesto di casa vostra mi potete contattare non vi dovete manco spostare io sono perennemente disponibile veramente lo sparire o in mala fede perché avete paura che vi tolga i farmaci che non volete togliere o in mala fede perché avete paura che vi faccia prendere e non li volete prendere però veramente potete contattarmi sempre quindi mi raccomando per favore è fondamentale un po' perché io così mi ricordo pure che stiamo facendo con voi ma soprattutto perché poi non dovete mantenere i farmaci lungo tempo Vincenzo l'aspetto a controllo prenotato questa settimana in avviso pubblico dottore un'ultima cosa o lo sparire è perché mi sono reso conto che la terapia piena è positiva per me perché nel momento in cui calo la terapia ho capito ma non potete tenerla nel senso io non vi seguo vi state autosidurando come pazienti perché io non vi seguo su terapia lunga non lo posso fare ho dato un limite di un anno al massimo da questo punto di vista poi vi gestisco un anno no però che io non impari a meno che non impari e diventerò bravo a gestire i pazienti pure per due anni non posso imparare un anno un anno no stiamo parlando di mesi un mese un mese e mezzo io sto prendendo di punta lei perché si è sì sì sicuramente come ho detto siamo tutti in amicizia però guardate che veramente applicherò perché servono fondi per la ricerca servono fondi per aiutare uno dei miei progetti adesso i contributi verranno anche utilizzati per ad esempio che ne so un paziente vuole partecipare a una ricerca che comporta un determinato esame che bisogna pagarsi però lui non c'è soldi per farlo vorrebbe partecipare glielo pago io siccome voi mi date qualche regalino in più o qualcosa glielo pago io nel senso gli rimborso gli mando io i soldi per poterlo fare la persona non ha la possibilità di poterlo fare questo è un tipo di discorso relativamente nuovo che voglio fare oppure il paziente a tutti i costi deve andare allo psichiatra per gestire i farmaci lo psichiatra i soldi per pagarselo non ce l'ha glielo pago io si può fare tranquillamente io gli rimborso gli rimborso quello che ho ricevuto da lui tranquillamente magari in parte perché tanto poi mi rifaccio i contributi mi arrivano da altre parti per cui le multe diventeranno una sorta di contributo pubblicato ci saranno le multe ve lo dico subito perché fioccheranno ai cartellini gialli le multe apposta per questo dovete imparare ok dovete imparare che non vi gusta niente ma niente 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 oltre a essere una parte va bene adesso al di là di più fa qualche esperienza specifica a raccontare cioè ha notato qualche correlazione o ha qualche strategia di percezione o qualche strategia di gestione no dottore ho notato che comunque ho detto quando c'è il calo il disequilibrio aumenta e quindi la paura cioè la domanda mia più che altro è questa se devo continuare a far a terapia piena a lungo termine e a lungo periodo solo questo se tutti lo possono dire il disequilibrio normalmente in una settimana lo metterà a posto poi ci possono essere recidive se c'è un disturbo che è facile a fare il disequilibrio soggettivo lo gestiamo sempre non credo che ci sia nessuno che possa dire no con me qualunque cosa abbiamo fatto io continuo la settimana in barca oscillare poi possono tornare i risodi quello è ovviamente problemi grossi che abbiamo quindi che serve fare terapia a vita se poi una volta che ritorna tre giorni cinque giorni una settimana qual è l'utilità di stare a fare una copertura a vita per il disequilibrio purtroppo mi rendo conto dottore che se calo col calo mezza dose mi ritorna solo questo ritorna dipende quando ritorna vabbè poi lo valutiamo però calcolate pure quello il gioco deve valere la candela insomma nel senso che dipende che cosa stiamo cercando di ottenere ok va bene comunque ci conosciamo credo dal 2000 una cosa del genere almeno ora dunque l'ultima l'ultima crisi risale al 2019 e da allora diciamo salvo gli acufeni praticamente io sto sto bene sto bene precisiamolo non è che sono messo 19 anni dal 2000 a farla star bene è stata bene subito e che ci ha avuto poi periodiche recidive l'ultima del 2019 eh certo se no mi tira addosso la cattiva pubblicità dice ci ha metto 19 anni per farmi star bene no assolutamente assolutamente infatti no mica volevo dire questo volevo dire appunto che insomma niente lei ha centrato da subito allora è un problema mi è venuta la camilluccia o addirittura a piazza Carracci è ancora prima no a piazza Carracci capirai quindi prima della megachimica insomma lei lo sa bene quanti esami si facevano all'epoca si facevano anche degli hospital eh vabbè ma insomma voglio dire c'erano degli otorini che brancolavano nel buio c'erano quelli che dicevano che era la bintite che era un colpo perché c'erano perché c'erano non mi pare che si è cambiata molto la situazione c'erano diciamo allora c'ha delle strategie per la gestione recidive o delle allora sì io come dicevo praticamente l'ultima l'ultima crisi forte l'ho messa in relazione alla morte di mia sorella quindi voglio dire era stata un'esplosione praticamente diciamo di stress eh all'ennesima potenza quindi credo di poter dire che sicuramente le le situazioni stressogene danno una grossa mano alle vertigini una grossa mano al disequilibrio una grossa mano praticamente alla meniera e quindi all'idrope e al cattivo funzionamento l'unica di questi vent'anni che mi conosce che strategia ha sviluppato per la gestione dello stress allora io va bene la strategia diciamo io intanto seguo io ho sempre eseguito sempre quelle che sono state le sue eh indicazioni mediche e quindi a partire va bene dal cortisone nei momenti di crisi acuta alla dieta alla dieta ferrea va bene che era una volta era ferrea adesso molto ridotta quindi è molto più gestibile rispetto ad anni addietro non è vero la dieta è più rigida adesso di quella che si faceva all'epoca la differenza all'epoca durava sei settimane sì e che è più breve la seguiva addirittura la dottoressa Francesca che faceva le cose sì la dottoressa Gurnari la dottoressa Gurnari insomma però l'ho seguita sempre pensate che all'epoca pensate che all'epoca in realtà tutti i giorni bisognava sentire una persona che ti diceva cosa mangiare il giorno dopo è incredibile tutti i giorni tutti i giorni io avevo un diario un prossimo microfono tu Mauro che mi viene ogni tanto in video e quindi praticamente era una dieta più leggera di adesso ma che durava sei settimane consecutive poi dopo è passata tre settimane poi è passata dieci giorni vedete come cambiano le cose con gli esperimenti però la dieta è più pesante adesso rispetto all'ora sì però diciamo che appunto nell'ultima nell'ultima io dall'ultima crisi posso dirvi che bevo tre litri di acqua al giorno questo sempre da oltre un anno da oltre un anno chiaramente quasi due per la verità ho il mio carico idrico di tre litri di acqua al giorno in realtà non è così difficile perché ci si abitua però dubbiamente uno se beve tre litri poi tre litri deve eliminare quindi non male che poi vado a bagno spesso sì sì ma mi sono organizzata mi sono organizzata con le bottigliene da mezzo litro per cui me le suddivido durante il giorno le porto anche ricordatevi che tutto va fatto in chiave serena nel senso non deve essere una forma di necrosi io ho un paziente che soffre da morire e bere l'acqua gli dico è meglio se prima di bere un po' meno anche per quello serve la valutazione di questo specifico no no ma io sto bene cioè io io dico che dal mio punto di vista bere l'acqua mi tranquillizza mi tranquillizza la mia indicazione nel 2000 era due litri non tre o era già diventata tre litri già lei dall'inizio aveva sta cosa di tre litri o facevo bere meno all'inizio no no era tre litri anche all'inizio forse prima nel 98 cosa del genere dovevo bere due che poi ho aumentato prossimamente a tre eh due sì due poi da due a tre sì sì quindi in realtà in realtà mica detto ma adesso questi tre litri sono un valore ufficiale per tutti ma qualcuno deve aver bisogno di quattro qualcuno di due e mezzo anche quello è importante riuscire a capire e lì ci può dare molto peso specifico renario ad esempio io insomma ripeto per quanto riguarda diciamo le cose che ho notato sicuramente con il cambio di temperatura cioè quando la temperatura cambia sicuramente ho un attimo di disequilibrio dico dico un attimo perché poi dura magari qualche giorno ma ho imparato diciamo insomma ad autogestirlo quindi non non vado assolutamente nel panico per questo è stato più lungo che è stata bene senza problemi in questi vent'anni no ma il periodo più lungo è quello attuale voglio dire già adesso dall'ultima crisi quella forte di vertigini che praticamente abbiamo fatto in senso che prima capitato comunque in tutti questi anni è capitato una rinoma secondo me non è che ha avuto così tante recidive nel senso quando l'ho vista no ogni quattro anni diciamo che poi siamo visti anche l'ultima volta a Villa Flaminia diciamo erano passati quattro anni adesso non sono passati quattro anni nel 2019 quindi c'ha avuto periodi più lunghi anche di quell'attuale sì sì anche più lunghi sì anche più lunghi certo io credo se uno ci avesse pure una recidiva ogni quattro anni ecco il mio modo di ragionare poi se facciamo la terapia si mette a posto ma chi se ne frega ho visto Amara Zago che sta facendo il gesto che dice ma sì c'ha ragione ecco appunto infatti è così no ma posso chiedere volevo chiedere per la siccome sono rimasta un po' indietro sulle cose tecniche per la frequenza cardiaca c'è un'app volevo capire dove prenderla adesso metto tutto nell'area paziente aggiornato datemi qualche giorno e metto tutto già c'è un articolo comunque disponibile lo trovate nei poster relativo all'altra mi sa che ci ho messo già il link dell'app nuova non mi ricordo scusate stanotte stanno presentando le tali 5 per sistemare il nuovo sistema di controlli e quindi da questo punto di vista sto un attimo rincolgere quindi non mi ricordo l'acufene è comparso circa un po' più di un anno fa ho avuto c'è anche Roberta o è da sola? non c'è Roberta non è riuscita sono tutte due le sorelle le gemelle non siamo gemelle però mi racconta carina che mare in realtà io la conosco insieme alla sorella perché era quella che gestiva Whatsapp per la sorella esatto ironia della sorte ha voluto così vabbè e comunque viviamo in simbiosi anche in questo e di conseguenza allora diciamo che sicuramente se devo fare una valutazione della mia vita come per tutti del resto ci sono stati dei momenti di stress forte che fatalità sia io che mia sorella abbiamo dovuto subire e quindi questo sicuramente forte stress ripetuto nel tempo è come l'esempio che mi ha fatto lei quando ci siamo conosciuti io in banca avevo qualcosa ho prelevato di continuo sono andata in rosso e non e non mi sono resa conto perché continuavo a prelevare voi dovete immaginare il discorso della resilienza dell'energia come spiegavo prima ecco perché uno deve come distribuite le spese come dite poiché devo pagare l'affitto non mi posso permettere di comprarmi il motorino nuovo poiché devo occuparmi della mia problematica di vertigino di quello di quell'altro può essere un esempio non posso sbattermi più di tanto per aiutare quell'amico perché poi alla fine finisce che per aiutare solamente quell'amico mi distraggo da altre cose per altri rapporti ecco perché immaginare quella cosa del cerchio e avere equilibrio nei vari rapporti capito? certo e quindi un po' diciamo varie situazioni che si sono concatenate negli anni oserei dire un dieci anni e quindi sono lunghi ovviamente quando sei in quella fase lì di stress non te ne rendi conto tu vai avanti come un kamikaze e vai avanti perché hai la forza di farlo e pensi che sei invincibile però credi lo credi ha visto male il saldo ha visto uno zero in più nel saldo dell'estrato bancario esattamente e improvvisamente un giorno mi sveglio con questa cosa proprio all'improvviso e siccome sapevo già appunto tutto quello che mia sorella l'ha avuto per due anni prima quindi ovviamente la cosa che mi è venuta più veloce da fare è contattarla anche se lei pensavo fosse uno scherzo all'inizio ero io esatto quindi ho avuto subito un esito positivo per quanto riguarda ho fatto il carico idrico ho fatto una dieta praticamente rigida e a mezza dosi i farmaci devo dire che ho ho avuto poi una recidiva ho avuto una recidiva nove mesi dopo corregga perché io vi conosco a tutti ma non è che c'è il computer in testa certo era talmente legito che allora vediamo un attimo perché facendo poco invece non si è risolta abbiamo fatto più terapia abbiamo fatto esattamente adesso sto sto facendo in questo momento la dieta rigida con i farmaci io per quanto riguarda il carico idrico ci si abitua non c'è nessun problema parlo dal punto di vista da donna e per il lavoro che faccio perché io lavoro in un negozio di conseguenza diciamo primo devo assentarmi varie volte per dover bere Mara ha detto una cosa giusta non dimentichiamo che noi maschietti abbiamo mica tanti problemi esattamente io parlo da donna abbiamo più problemi sia per quanto però noi penso abbiamo problemi con la prostata quando mi chiamo qualcosa dovrete pure avere voglio dire un minimo di parcondicio ce l'abbiamo è un minimo di parcondicio la sensazione lei dice sostanzialmente molto ruota attorno allo stress cioè in realtà quello che può fare la differenza è la buona gestione dello stress sì e poi io sono stata una cattiva bevitrice di acqua nel senso il mio lavoro ha portato negli anni sono 30 anni che faccio lo stesso lavoro fortunatamente però ovviamente essendo col pubblico sempre a contatto col pubblico io dell'acqua poi negli anni me l'ero dimenticata c'erano c'erano momenti in cui bevevo penso non è che la malattia venga perché uno non beve oddio magari può essere profattore e che poi quando dobbiamo fare una cura l'acqua ci serve ecco diciamo che bevevo forse un bicchiere d'acqua se mi ricordavo senza andare lontano senza andare lontano guardate che non è che lo dico io che l'acqua fa bene lo sanno tutti la cosa assurda è vero della meniera un tempo si diceva non devi bere devi essere tardi perché c'hai troppo altro allora parlando praticamente perché sono una donna molto pratica e diretta allora a un certo punto se bevi così ovviamente tre litri un po' perché magari non ne sono abituata da sempre ma adesso ho imparato diciamo che il mio problema proprio soprattutto in questo momento dottore è che il covid chiude tutto vado a bere qualcosa e non c'è l'accessibilità al bagno sono per strada perché il mio negozio faccio un esempio mio pratico il negozio chiude dove vado? cioè voi maschietti potete arrangiarvi noi no quindi devo fare una corsa al lavoro riaprire il lavoro e andare nel mio bagno però adesso questa è la comprensione che la positiva è che la sensazione che acqua è con un po' assolutamente sì addirittura ho fatto un'analisi addirittura ho fatto un'analisi insomma ho fatto una prova su me stessa per quanto riguarda alcuni cibi tipo il cioccolato piuttosto che il formaggio alcune cose le ho selezionate proprio per vedere e per regolare il mio fisico cioè almeno per me ovvio che la verità è che io non lo so perché alcuni cibi possono dare problemi specifici io feci uno studio sull'intolleranza alimentare di routine a tanti pazienti e 50% c'era qualche tolleranza soprattutto le fragole la dieta ricordate che è stata creata prima perché mia madre dietologa aveva una dieta e all'inizio quella si faceva quella che diciamo prima dei vent'anni fa era più o meno quella di mia madre che però non era una dieta per l'orecchio si basava su per alcune cose poi diciamo che si prova poi sono messa sì ma in realtà la dieta è la parte meno scientifica del mio lavoro io non ci capisco assolutamente niente certo infatti e anch'io cioè provo perché sono aranciun mi ricordo ovvio che dottore ho notato che lei ha tolto tutti i cibi e ranzoni non ci sono i cachi non ci sono non ci sono i cachi ho fatto è vero è vero tra l'altro dottore approfitto per tutti magari se lo sono chiesto oppure qualcuno gliel'ha già chiesto ma le uova che fine hanno fatto niente non mai state in realtà stiamo valutando il famoso progetto dieta sperimentale che stanno seguendo no giusto per avere un'alternativa no no ma il problema è che quello sarà fatto ma non lo posso fare con voi pazienti quando state male e quando state bene non abbiamo un parametro perché non avete sintomi e quando state male non posso dire ok allora io sto avviato dei progetti di ricerca che convolgono i non pazienti ce ne abbiamo un 25 ma ad esempio una buona parte mancano iniziato ci hanno provato e fermati subito non riescono a bere in caso altri invece dei benefici i pochi che mi hanno già risposto ad esempio hanno detto che con la dieta sperimentale dove ci stanno uova i funghi non c'è da scegliere ti può mangiare lo stesso frutto o la stessa cosa il giorno dopo il giorno prima quindi con molti meno limiti hanno detto che i miglioramenti hanno visto uno mi ha ripreso un 30-40% già ripreso in vita sperimentale e poi facendo una dieta rigida quindi esatto nel mio caso dottore e gliel'avevo detto io avevo fatto anche una prova di sola acqua e già c'erano dei miglioramenti ovvio che non è scomparso l'acqua fene che fa conta per le cd per fare il meno il meno per ottenere il di più cioè il meno stressante perché ad esempio se uno scoprisse che esiste una versione che non è il mantenimento ma non è la dieta rigida non è la dieta di mezzo è quello che possiamo tenere per un mese consecutivo ad esempio ci potrebbe ritare tantissimo esatto che diventa una cosa più fattibile sicuramente la pregatura che io devo usare i non pazienti perché quando un mio paziente mi chiama Borgiano e toccano una cd va ecco adesso facciamo gli esperimenti ma veramente io vorrei fare bene non vorrei fare gli esperimenti oddio se ti chiede di dire seppure facciamo gli esperimenti ma è assurdo e ci abbiamo una cura che sicuramente funziona però ad esempio potrebbe fare un esperimento con un paziente che sta male ma in quel momento per qualche motivo non può bere l'acqua non può fare la dieta rigida e ci sono quei momenti quell'esempio potremmo dire piuttosto che non fare niente perché non può vogliamo fare una prova di questo tipo altra cosa prendo la parola un attimo per dire una cosa e poi vedo un po' di mani alzate e do distribuzione do la voce il però breve anche un altro esperimento per quelli che non riescono che pur avendo idrofi si puste ma hanno troppo spesso recidive o non riusciamo davvero a modificare più di tanto la cosa esatto come il mio i farmaci alzando un pochino il cortisone bisogna fare comunque il concetto è quello che se non proviamo non sappiamo chiaramente che ogni esperimento che facciamo deve essere in totale margine di sicurezza me ne frego certo se poi in cambio avviene dei problemi ricordate la prima regola io non c'è nessuno di voi alzasse la mano mettesse le facce brutte un accidente che può dire di aver avuto seri effetti collaterali con la mia terapia lo posso dire in pubblico perché la regola assolutamente ero io la prima scettica ma tutti guardate che tutti si dice ma questo è importante vedo in video tale cosa scusi faccio una cosa veloce al di là del carico idrico dieta eccetera io ho notato che quando ho una recidiva fisicamente nella mia calotta cranica sento una pressione maggiore ecco questo è quanto posso dire allora quello ha due spiegazioni allora in generale voi come pazienti stressati anzi chiamatevi un rulletto ricordate che non sto offendendo nessuno avete spesso anche disturbi attività erotici cioè disturbi che sono in realtà prodotti direttamente dal cervello ma alcuni sintomi come il senso di pesantezza della testa malli testa malli testa quelle della cosetta meteorofatia o meteorofatia in realtà potrebbe essere dovuti proprio al fatto dell'aumento della pressione dei liquidi cerebrali che sono comunque reflati all'ormono antiuretico che sono in correlazione quelli ad esempio sono i casi in cui la flebo potrebbe aiutare perché la flebo è la cosa più specifica che abbiamo a parte l'acqua e la dieta per i liquidi cerebrali tant'è che mia terapia nasce io sono anche figlio di neurochirurgo in realtà tutte e due perché mia madre un po' per amore un po' per controllare mio padre si è messa a fare neurochirurgo pure lei operavano insieme a volte facevamo gli interventi in tre pure io ero un piccolo neurochirurgo in erba anche se poi ho fatto altro e quindi in realtà io venendo dalla neurochirurgia come esperienza più che dall'otorino avevo pelato tre tonsille in vitamia e ho fatto molti più interventi in neurochirurgia venendo dalla chirurgia per me il mannitolo fatto veloce ad esempio delle fleboclisi quella è la terapia classica dell'edema cerebrale appunto che si fa tranquillamente perché io non capisco tornando alla storia dei fermieri ah questa è una terapia pericolosa allora guardi io sono in provincia se per caso vediamo se dovrò arrivare a quello casomai passerò se trovo quello io faccio il mio per organizzarlo voi fate il vostro per metterlo perché è fondamentale avere perché assolutamente stiamo facendo che la gente contatta Francesca o me che conosce qua oppure lo scriviamo su assolutamente sì c'è il pulsante fleboclisi si accede automaticamente a un database dove uno vede la lista degli infermieri e con un modulo può aggiungere il suo cioè consulta dove è beso aggiungi dato e così è benissimo certo certo è giusto migliaia 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 insomma manco più quanti di pazienti le fleboclisi avranno fatte 20.000 persone bisogna essere più generosi in questo nel senso parlo un po' a tutti quelli che stanno ascoltando perché anche piccole cose anche banali pratiche tipo quello mio per esempio del lavoro dove devo andare in bagno sono piccole cose piccoli accorgimenti saranno banali saranno stupidi non ci sarà un database per la localizzazione bagno no quello no quello no dove trovo il bagno vicino via chi è donna mi capisce cioè è veramente a volte devo fermare tutti fermatevi perché devo uscire dalla macchina mi dovessi inventare una terapia che non presenta neanche la storia di terapia ma ve lo faccio stai no vabbè no 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 la sto mettendo scherzo mi volevo riallacciare a un paio di discorsi allora il fatto di Emiliano anche io ho notato l'inverso per quanto riguarda l'HRV e lo posso dire soprattutto quando finisco di fare l'ultima siringa di cortisone nella terapia avanzata infatti appena mi sono svegliato il giorno dopo ho avuto un aumento dell'acufene e soprattutto vorrei dare un consiglio a tutti il densimetro io ne ho comprati due perché uno l'ho rotto e da buon chimico industriale l'ho tarato perché non mi fidavo sono un po' starati basta comprare acqua distillata e tarare perché l'acqua distillata deve dare noi l'abbiamo fatta la prova l'abbiamo fatta la prova l'abbiamo fatta Francesca pure poi io l'ho usato siccome l'ho usata mia madre per la valutazione della dieta io li facevo io con l'analisi ne ho fatte migliaia di misurazioni in realtà sono starati di un grado forse di una cosa non è quello non è quello uno non ci importa niente perché in realtà l'abbiamo fatta la prova con l'acqua viene a zero l'acqua perché l'acqua deve essere a zero non è sbagliato c'è un po' d'acqua distillata quella che si usa il ferro da stiro fate la prova con quella deve essere mille esatto perché mille è il peso specifico dell'acqua distillata e invece a me risultava addirittura 996 996 mi pare un po' troppo eh sì e infatti poi ho rapportato il peso specifico delle urine è la cosa degli infermieri per caso potrebbe essere rotto però mi pare difficile perché sono potrebbe essere starato nel senso che ricordate che il peso nel densimetro il peso delle palline di mercurio che ci stanno dentro di quello che è insomma quelle palline che ci sono dentro del genere che mandano giù e beh può essere starato perché per un errore di fabbrica sì sì non è sbagliata un'idea non ci ho mai pensato però ho dei casi che mi tengono attenzione una cosa soprattutto il peso specifico la mattina è naturale che sia un pochino più alto di quello della sera perché sì ma uno che non mi ricordo chi di voi che magari mi ha detto c'ho regolarmente mille e venti tutte le mattine no? quello vuol dire che qualcosa non sta andando non è veramente rotto però la sera magari c'ha mille e cinque allora non può essere rotto e vuol dire concentra molto di notte io capisco che svegliarsi notte e fare pipì e una scocciatura ma seppure uno si raddormenta sempre probabilmente un attimo dopo non c'ha problema va bene beve un po' più la sera la mia concessione la mia concessione che ultimamente do di dire se volete caricate un po' più la sera va al vostro comodo ma non va al comodo della cura perché per la cura voi dovreste in realtà voi dovreste 24 ore su 24 da questo punto di vista ora noi di notte noi di notte abbiamo un meccanismo per cui in teoria l'ormono antidiuretico si attiva di più di notte per impedirci di dover fare tanta pipì da questo punto di vista per cui se noi non lo compensiamo ci sono molti di voi che si svegliano la mattina con l'acufene a palla potrebbero attenuarsi durante il giorno ad esempio la concentrazione notturna al contrario altri hanno il momento migliore la mattina perché hanno dormito o sono riposati tanti piccoli parametri secondo me dovremmo fare una gestione prevenzione recidiva e due anche alla prossima perché ha voglia gli argomenti che potremmo toccare non possiamo almeno finirli poi dottore l'unica cosa gli infermieri gli infermieri anche ho notato questa cosa purtroppo non ce ne sono anzi addirittura un infermiere mi ha detto che il mannitolo distrugge esagerate perché la maggior parte dei casi si riesce a farle sì perché c'è un amico che resta ma molte volte non può restare sono una minoranza però il problema è che dovete imparare con i medici e infermieri un attimino a fare una buona selezione nel senso che io credo che potete conoscervi tutti mettervi d'accordo non troverete un paziente un paziente che ha avuto effetti collaterali veri veri no nessuno 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 se lo inventano è come dire a un certo punto è come dire che un uomo ha paura di rimanere incinto è impossibile perché io cubo acufeni vertigini fregnacce rispetto alla vera medicina e io quando capisco che per voi possono essere molto fastidiosi capisco io forse ho più rispetto per la sordità perché è una vera invalidità capisco tutto è terribile invalida la vita quello che vuoi ma non mi venite a tic è meglio è meglio avere il cancro che avere l'acufene o meglio avere un infarto una paresi o una paralisi o chissà che altro cerchiamo di ridimensionare anche un attimo è una grado di scatole ma camminate per lo più avete le braccia le gambe cosa del genere e ci vedete con gli occhi per lo più poi c'è pure chi purtroppo ha problema anche di quello ringraziamo il signore ringraziamo il signore che quella sia la malattia rispetto ad altro per cui io non mi posso permettere assolutamente effetti collaterali importanti per nessun motivo per cui purtroppo quello è il mio problema io vorrei trovare qualcuno che dica senta come il discorso della libido vi racconto una cosa stranissima voi tutti sapete che c'è questo effetto collaterale sia uomini che donne sulla libido che possono dare i neurofarmaci cioè calo del desiderio sessuale difficoltà durante i rapporti oh io non lo so come avete fatto io davo le gocce la tragedia poi ho cambiato tutto in compresse è calato da morire questo effetto quindi o sbagliavate a mettere gocce ma è lo stesso principio attivo è la stessa dose non me lo so spiegare non me lo so spiegare assolutamente o sbagliavate a calcolare qualcosa perché mettevate più dose di quella che è non lo so nemmeno fatto sta che pure quello si va a periodi nel momento in cui io sottolineavo molto nella terapia questo effetto collaterale e dicevo se ce l'avete contattatemi che vi riduco i farmaci tutti a ridurre i farmaci quindi è un momento in cui non ho detto più niente tutti a tenersi i farmaci ci avrò uno ogni quadro lo so benissimo che ce l'avete lo stesso problema il che capita perché un po' di effetto collaterale ci può essere adesso siamo tutti adulti chi per lo più per meno certo se uno si è appena fidanzato con Miss Italia l'altro ieri non gli può dire scusate sto a fare la terapia al dottor Latorre non posso e viceversa una che si è messa con non so chi sono quelli belli non lo so ma io conosco le donne belle non gli uomini vabbè un George Clooney o Richard Gere dell'epoca non gli può dire senti sto a fare la terapia al dottor Latorre chiamami tra due mesi però in linea di massima adesso non facciamo tutto oppure io non posso sopravvivere senza pasta asciutta aiutiamoci ad aiutare sì e poi per quanto riguarda l'alimentazione non ci si trova nessun problema anzi solo un po' in inverno non si trovano tante frutte e verdure ma si può sempre variare e poi ho notato che variando lo stile di vita andando a dormire anche soltanto due tre ore più tardi il giorno dopo mi sveglio con una cufene leggermente questo è un aspetto importante del sonno che avevamo trascurato di dire questo è un aspetto molto importante appena anche quello rientra tra i fattori di gestione no di gestione scusate di prevenzione la regolarità della vita però ricordatevi una cosa fondamentale che la prima cosa che fa star bene le persone è godersi sì la vita quindi se volete andare a spararvi che state fino alle 4 alle 5 di sera a divertirvi e quello di notte ma fatelo cioè che ce fate con la salute se poi siete tristi capito il concetto chi se ne frega se abbiamo una recidiva ma divertitevi non mi fate usare la parola perché lo devo mettere in video pubblico tornando alla cosa del sesso di prima avete capito il messaggio qual è godetevi la vita e pensate la cosa perché quello poi aiuta e aiuta nel mio sviluppare resilienza ho creato anche quello datevi un po' meno di regole rigide molti io sono rigorosamente A rigorosamente B ma un po' d'elasticità cioè alla fine se vi volete certo state in terapia state prendendo una farmace a fare la dieta evitate andarmi a letta alle 5 tanto trovo un sacco di notte ho fatto il fuso orario il becco che stanno su facebook alle 4 di notte vostre o altre cose però pensate un attimo pure a godervi la vita che non è che la vita è fare i pazienti la vita è fare la persona poi questo io sono il rapporto con me deve essere un incidente del percorso di vita capito? il rapporto con la malattia questo è anche fondamentale perché c'è gente che l'ha usata c'è anche gente che ha creato quello che si chiama il cosiddetto vantaggio secondario soprattutto le donne devo dire in questo visto che prima l'abbiamo difese sulla storia del pipì adesso le attacchiamo un attimo su un aspetto caratteriale è tipico di molte donne quello che hanno creato una sorta di giustificativo in realtà purtroppo anche molti giovani ma hanno creato una sorta di giustificativo per cui intanto ci credo che tu non mi capisci vorrei vedere se tu avessi questi problemi tante volte ho sentito dire in famiglia ah parli facile tu che non c'hai che non c'hai il disequilibrio voglio vedere se avessi questo io non posso far questo perché c'ho il disequilibrio diventano i disturbi o l'acufene diventano i disturbi l'alibi per non riconoscere che in realtà pure se uno non ci avesse quel problema in realtà avrebbe defaianza su qualcosa per cui tutto questo fa parte della gestione e prevenzione delle recidive capito tutto questo fa parte del discorso del lavoro sui stessi che bisogna fare poi io non è che faccio maestro di vita sapeste i problemi che so io di mio e sono un suo paziente da un paio di mesi da dicembre per per acufeni ho fatto la terapia e mi stavo approcciando a fare la terapia avanzata ma purtroppo devo constatare che c'è questa problematica dagli infermieri ma non mi voglio soffermare più di tanto su questa cosa perché altrimenti ripetiamo in circolo le stesse cose ripetiamola perché quello è un problema ed è un problema facile soluzione sì purtroppo io io sono di Varese e sto facendo fatica però come l'avevo detto in un messaggio precedente siccome sono una persona che ha avuto delle problematiche di salute e dei traumi sono peraltro vedo sto affrontando in questo momento una terapia comportamentale proprio per riuscire comunque a gestire questi traumi e la mia resilienza compreso l'acufene e un'altra malattia che in questo momento non voglio comunque divulgare e quindi sono in una fase di apprendimento ecco anche sui miei sintomi su come gestire gli acufeni per esempio sono 3-4 giorni che sono stato bene e invece questa mattina mi sono ritornati una cosa importante per me è il sonno notturno purtroppo la gestione dei 3 litri a me mi crea problemi con i risvegli notturni avevo visto la sua faccia quando lo dicevo infatti mi crea una serie di risvegli notturni non riesco a riaddormentarmi bene e la mattina mi alzo con la paura che mi torna l'acufene e mi torna l'acufene anche lì tutto deve essere giocato tra beneficio svantaggio e beneficio se lui alla fine paga di più i risvegli notturni avendo bevuto l'acqua che non l'eventuale malessere da non aver bevuto l'acqua deve bere di meno dobbiamo personalizzare le cose è chiaro che c'è una fase di terapia rigida uguale per tutti se no non capiamo niente ma se poi uno notasse il gioco non vale la candela perché i miei continui risvegli notturni per andare a farti più mi fanno stare peggio che il non bere la sera appunto in caso di bere di meno sì sono in una fase di mantenimento e sto scalando un po' i farmaci anche perché sono in questa terapia che devo dire e lo consiglio a tutti mi sta dando dei vantaggi ho un amico psicologo in questo però io ho una problematica di traumi che quindi un pochino complessa non riesco ancora a gestire il peso specifico cioè nel senso cioè non riesco ancora a capire attraverso il peso specifico delle urine quando un po' nel senso bisogna fare diverse misurazioni e vedere sì le sto facendo allora è evidente che il problema dei risvegli notturni e dello stress notturno crea comunque al mattino un peso specifico molto più alto questo regolarmente sono sopra il 10-10 quindi vuol dire che non è coperto però non è coperto mentre invece durante la giornata mentre invece durante la giornata non ho assolutamente problemi riesco a rimanere nella norma sto cercando di gestire anche la frequenza cardiaca ma per il momento trovo difficoltà con questa applicazione adesso c'è questa nuova è ancora più facile ma poi semmai chi mi contatta glielo spiego anche privatamente o possiamo nominare qualcuno che vi fa da consulente no no sto cercando di utilizzarla ma non sempre il segnale o la lettura è ottimale anzi più delle volte è sporca quindi va cancellata quest'altro quest'altra app che ho mostrato prima sembra più sensibile e efficace soprattutto si autoferma da sola cioè non dà tracciati sporchi questo forse il segnale si ferma e annulla la registrazione e fa un'altra cioè non c'è rischio perché voi magari potreste non capire se è più efficace ecco niente questa è la mia esperienza però io ritengo che sia veramente molto molto importante la gestione dello stress e della resilienza almeno per quanto mi riguarda siete tutti d'accordo prevalentemente su quello ma io speravo di avere qualche altra detta più ma sempre finiamo su stress e resilienza volevo raccontare la mia la mia esperienza perché attualmente vivo in Inghilterra e quindi una situazione un po' particolare però brevemente volevo raccontare un po' la mia la mia esperienza con il trattamento con il dottore per finire in una sorta di domanda su un paio di punti che che non ho ancora risolto dunque Giandro oggi soprattutto serve raccontare l'esperienza relativamente a strategie cioè pratica capito non tanto fare testimonianza che siete contenti o che state bene proprio fare cercare di portarla a punto di vista pratico ok dal punto di vista pratico ma volevo riallacciare il fatto che dal meeting precedente con i non pazienti si era discusso si era parlato anche di tutte le teorie di molti dottori sul fatto dell'uso del bite sul fatto di una di un collegamento con qualcosa fatto nei denti nel mio caso c'era una corona quindi insomma io ho visto dottori prima di contattare lei che la conosco da solo due anni da circa 12 e ho questo la problematica diciamo che sono passato comunque per dottori sia in argentino sono argentino io dottori in Italia sia in Liguria che nella provincia di Piazzaro Urbino e infine qua in Inghilterra dove ormai vivo da dieci anni e dove ho cercato di farmi trattare comunque questa problematica senza mai riuscire ovviamente quindi quando due anni fa circa due anni fa all'epoca avevo sia acufeni avevo le vertigini abbastanza violente quindi all'improvviso potevo anche cadere per terra battere la testa e via dicendo e avevo anche in teoria stando Scusa se interrompo ma funziona così che quando mi date uno spunto dico una cosa attenzione che vertigine e vertigine caduta per terra sbattendo rischiarsi di farsi male è un'altra ricordate tutti e ditelo anche a altri pazienti se ci parlate qualora capitassero episodi di caduta brusca a parte che c'è scritto qualcosa sul sito internet ma contattatemi lì non è una vertigine la vertigine non è mai pericolosa è una rottura di scatole la caduta vi potete fare male capita abbastanza raramente per fortuna ma potrebbe richiedere provvedimenti tipo diverso per cui ne approfitto per ricordare quella non va mai sottovalutata quella è una cosa seria perché teoricamente può dare le conseguenze ho visto gente che ho punti in testa perché è successo è raro ma può capitare quindi se dovesse capitarvi una caduta sempre dovete contattarmi subito per riferirmelo prego al momento della caduta al momento della caduta non ero un suo paziente ma è stato grazie a quella caduta lì per la prima volta di fronte a mia moglie mia moglie italiana in cucina ho battuto la testa contro il mobile della cucina il tempo di battere e finire per terra comunque ero già a posto perché a me per fortuna questi giramenti di testa questi vertigini mi duravano solo secondi però in quei secondi riuscivo a perdere un po' la forza il controllo delle mie gambe e per quello molte volte dovevo o inginocchiarmi o molte volte cadevo insomma io avevo fatto sempre le mie ricerche in inglese probabilmente in spagnolo finché mia moglie spaventata quella volta che l'aveva vista un po' da vivo ho fatto una prima ricerca in italiano subito ho trovato il dottore e siccome dopo dieci anni di problematiche di leggere documenti in inglese in spagnolo comunque io sono stato convinto ancora un secondo riprendo la parola velocissimo io in realtà avevo un sito addirittura in quattro lingue completo addirittura l'avevo fatto in italiano in francese in inglese spagnolo completo qualche anno fa c'è tanto il problema che all'estero non riesco a far prendere assolutamente niente di questo in realtà offro consulenze gratuite ai pazienti stranieri anche per l'on aiuto dei medici però è una cosa che ci ho sempre pensato perché solo perché siete italiani o parlate italiano dovete essere avvantaggiati cioè è assurdo questo quando si potrebbe diffondere molto per cui se avete capacità di comunicare parlate altre lingue o potete comunicare mettete dei posti nella vostra lingua io lo faccio no no d'accordo fate fate una marea di lingue io parlo spagnolo come l'italiano pure con accento argentino lui lo sa perché l'ho imparato là per cui parlo tante lingue ma non mi metto a farlo primo perché dovrei aggiornare in continuazione secondo perché non ho tempo e non vedo a trovare non trovo riscontro veramente all'estero ma se riuscite in qualche maniera a infilarvi in qualche gruppo che parla altre lingue inglese francese spagnolo russo perché no e cose del genere fatelo cercate di creare d'altra parte guardate che anche in Italia abbiamo cominciato da zero vero che sono 22 anni in Italia forse non ho ancora manco 22 anni di lavoro e di vita per poterlo fare per poterlo fare magari con l'estero però alla fine è triste dirlo avete varie età qualcuno è più vecchio di me qualcuno è più giovane eccetera ma io un giorno non ce sarò più i medici non si svegliano perché sono 22 anni che aspettiamo che poi non è vero perché adesso in neurofarmaci qualcuno li dà perché l'idrope ma paradossalmente gli eredi di questo messaggio adesso non ditemi che so blasfemo ma gli apostoli mi avete capito che cosa vuol dire siete voi cioè alla fine credo che l'abbiate capito tutti a me dei soldi me ne frega niente mi serve sapere che poi alla fine quando un giorno non si perché me ne andrò quando un giorno me ne andrò dalla nuvoletta sempre che esista la nuvoletta posso sapere porca misera qualcosa ho lasciato da questo punto di vista perché se no veramente qui mi rischia di sotterrarsi tutto lo di buono stiamo facendo e tra 30 anni saremo ancora le stesse carretinate di prima è assurdo ma in 30 anni in 20 anni 22 anni ho fatto più ricerca io del resto del mondo questo è assurdo ma perché? perché non c'è interesse economico e quando io ho lanciato la TRT cioè una terapia che rendeva soldi a quel punto ha fatto quindi tornando a ridere la parola Alisandro visto perché lui è argentino come abbiamo avuto Irina prima russa eccetera eccetera ricordatevi che siete voi che dovete diffondere le cose infatti in Italia ormai c'è un nome gira la cosa è quello che è però facciamolo anche con gli stranieri perché non ho capito perché uno è nato in America o in Inghilterra o in Argentina poverino deve essere sfigato che deve non avere la terapia perché se gli italiani sì cioè ho capito che ci sta pure chi dice prima gli italiani ma a parte io non sono d'accordo nemmeno ma siamo tutti figli dello stesso pianeta bene o male per cui anche quella può essere una forma di solidarietà alla fine questa riunione sta diventando un messaggio per invitarvi a non pensare solo a voi stessi ma al fatto che se voi siete stati beneficiati da qualche cosa altri potrebbero beneficiarne e i contributi non sono economici non sono i 15 20 30 quello che mi date non me ne frega niente ce li metterei pure io sto vivendo in Vietta dove si fatica pure a spendere al momento il contributo è anche fare quelle piccole cose uno può occuparsi di dare un'informazione in un'altra lingua uno può occuparsi di mettere gli infermieri capito? facciamo veramente un bel gioco di squadra Alisandro chiedo scusa ho interrotto pure troppo voglio solo dire precisare su questo che lei sta dicendo che non sembra vero ma da quando io ho questo problema e vado a cena in Italia in Argentina o anche qua in Inghilterra tavola da 10 persone racconta il mio problema e c'è sempre una o due persone su quella tavola che hanno questo problema non lo raccontano nessuno quindi a me mi è capitato di dover consigliare il suo sito visto che è in inglese ho passato comunque dei links direttamente già alla versione inglese non voglio generalizzare però probabilmente gli inglesi sono leggermente più diffidenti di altre o magari degli italiani in questo caso non lo so partono da zero partono da zero non sono stati invitati oggi la maggior parte di voi mi chiamano per i neurofarmaci mi chiamano fanno la consulenza li mettono i neurofarmaci non ci provo nemmeno a dire ma come i neurofarmaci ma voi lo sapete quello che ho dovuto fare io per convincere che devo dare i neurofarmaci e andando prima quello che ho dovuto fare per cominciare a bere io sono stato il primo medico che diceva per la meniere si beve l'acqua forse Giuliana che è una paziente di tanti anni fa se lo ricorda che i medici dicevano di non bere di non bere oggi più nessuno ma guardate che in Italia lo dovete a me se vi dicono di bere perché io ho dovuto fare una battaglia io scherzando l'ho messo anche sul sito ringrazio Del Piero e la Chiabotto che hanno detto a tutti che l'acqua fa tanta pipì gli italiani già bevono poco siamo uno dei paesi dove si fa più pubblicità televisiva di bottiglie d'acqua da bere ma adesso bisogna pure pubblicizzare che bisogna bere l'acqua eppure è così perché di tendenza gli italiani bevono poca acqua altri popoli i miei nomi italiani hanno la tendenza a bere poca acqua in generale e a mangiare molto salato se per quello per cui è fondamentale anche questo aspetto via Alessandro allora faccio questa premessa in Inghilterra diciamo non si usa tanto la medicina privata e per la medicina per il servizio sanitario nazionale ovviamente non esiste chiaramente una cura dell'acufemia o della sindrome di meniere e via dicendo per cui quando io ho trovato il sito web del dottore ero fidatissimo questo è stato alla fine del 2018 abbiamo accordato con il dottore di far passare il periodo di Natale e ho iniziato subito a gennaio del 2019 va detto che per me la cosa più importante da eliminare all'epoca erano le vertigini io avevo detto per me gli acufeni non sono stati molto mai forti è un po' come il discorso della prontiglia perché si sente il rumore del mare tuttora è così però al sesto giorno della terapia sesto giorno della dieta quindi sto parlando gennaio 2019 e ho avuto l'ultimo mio giramento la mia ultima vertigine un po' così violenta durata pochi secondi e dall'epoca mai più di cui sono molto contento e va detto anche che durante la terapia abbiamo dovuto interrompere perché mi è assorto un viaggio di lavoro a Dubai dove ovviamente non si potevano continuare con i neurofarmaci altri problemi pratici ad esempio gli Emirati Rebbiuniti non permettono nessuno l'ingresso nei neurofarmaci sono stati che non permettono di importarli pensate quante rogne ci stanno anche nel questo per dire come funziona bene secondo me la sua dieta comunque dieci giorni abbiamo fatto questo fermo al rientro abbiamo continuato così e tuttora la privata ma adesso come sta che un po' che non ci vediamo io sto bene non ho mai avuto le vertigine l'anno scorso ci siamo sentiti perché credevo avere una recidiva per me una recidiva è la sensazione dell'inizio della vertigine di nuovo ma mai avuta e molte volte un aumento dell'acufene che nel mio caso è sempre stato date le nuovolette ma non è arrivata la pioggia esatto allora io volevo solo chiedere queste due cose raccontare e chiedere una delle cose che in Inghilterra hanno cercato di trattare comunque è che il servizio sanitario per quante cose negative si possa dire comunque dà delle protesi degli apparecchi per ascoltare meglio non so come si chiamano hearing aids e li danno gratis e quindi un dottore che mi stava trattando all'epoca mi ha detto facciamo una prova perché lui aveva notato una piccola perdita di udito dal mio lato sinistro che è il mio lato problematico se riusciamo a riempire quel 10% di perdita di udito che hai comunque con un apparecchio che tu recuperi il 100% del tuo udito probabilmente possiamo fare mascherare me lo aveva detto chiaramente è un trucchetto diciamo quella cufene che ti dà fastidio devo dire che in parte aveva funzionato e tuttora funziona ok al momento io però di due anni fa di fare l'intervista con il dottore prendevo anche il beta bloccante e quindi su tutte le cose che io ho seguito ovviamente molto rigorosamente da lei ho finito diciamo il beta bloccante quel giorno stesso mai più e di fatto è stata una scelta azzeccata lei mi aveva detto che ovviamente l'uso della protesi non serviva a nulla però ovviamente non mi aveva detto di fermarmi una cosa che spero abbiate capito tutti è una balla la storia che la confine viene dalla carenza di udito i sintomi non creano altri sintomi però però è vero che in realtà durante il giorno ma ad esempio chi ha problemi soprattutto la sera nel dormentarsi che c'è stato silenzio oppure si mette la protesi cosa amplificate se non c'è comunque circostante io la tolgo solo per dormire la faccio vedere è molto piccolina ma è un generatore di rumore o una protesi acustica generatore di rumore una protesi per aumentare il suono l'udito in acustica ma la mette quando dormi che c'è silenzio attorno la tolgo solo per dormire e fare la doccia quindi la tengo tutto il giorno io e questo mi aumenta non ho particolari problemi è chiaro che ho una perdita una ipoacusia una leggera perdita dell'udito all'epoca non si giustificava l'uso di un apparecchio però me l'hanno detto te lo daremo gratis solo per fare questa prova per cercare di controbattere questo ma è un gratis che poi rimane gratis o un gratis provvisorio che poi devi pagare per sempre no no per sempre in inghilterra questa è la differenza in inghilterra infatti lo so 4.000 euro a protese acustica ora per sta pagando c'ho messo a cui ti pare che gli chiedono 5.000 quindi no questo diventa un servizio gratis e rimane a vita nonostante io non mi faccio più trattare per la problematica di acufeni sindrome di meniero niente di niente e non mi è stata mai chiesta indietro insomma volevo arrivare a questo punto qua io noto sempre un sollievo in quella piccola acufene che ho sempre con l'apparecchio se io levo l'apparecchio ho una sorta di addizione quindi non mi sento mi sento un po' peggio c'ho leggermente il sintoma del fullness quando con l'apparecchio magari non ce l'ho quello probabilmente però non è fullness quello probabilmente è una fullness acustica che a volte si fa confusione cioè è il sentire ovattato ecco perché si usa il tema inglese di fullness perché non si dice pienezza in italiano brutto però c'è una differenza perché in realtà sulla protesi acustica di per sé sulla fullness non dovrebbe fare molto poi c'è tutto un discorso che un giorno magari ne parleremo in realtà i movimenti della membrana del timpano per aumentata stimolazione acustica perché bene o male lei compensa con maggiori onde all'orecchio medio quello che manca però nell'orecchio interno quindi in realtà sta portando di più all'orecchio medio i movimenti del timpano i movimenti degli ossicini tutto il discorso dei muscretti all'orecchio medio in qualche maniera possono ridurre l'idro perché questo è un vecchio discorso che dovremmo ripetere vabbè arrivando ai tempi nuovi diciamo quando lei ha parlato di questo aggegino chiamato calmer che si era discusso anche l'ho comprato sì vabbè io so un paziente che l'ha provato l'ho provato anch'io l'ho provato anch'io ma purtroppo non posso dare un giudizio per la semplice ragione che per usarlo devo levare la mia protesi e in una giornata dice comunque che per avere un giudizio bisogna usare almeno un paio di giorni di fila non riesco perché mi è veramente scopato non riesco non riesco a riproduzionare però costa 20 euro 30 euro se uno vuole se uno vuole però vabbè insomma quindi la mia prima domanda un po' era questa io dall'inizio della terapia con il dottore comunque che non posso che essere solo grato perché mi ha mi ha tolto il problema maggiore che avevo comunque all'epoca avevamo discusso della mia protesi e il dottore non è per fare il demagogo non è per fare quello che grazie di squadra capito gli altri medici vi insegnano una forma di ringraziamento nei confronti del bravo medico ma io la terapia non li seguite non è che ovviamente dovevo far passare la ricetta dei neurofarmaci al momento di iniziare la terapia qua che ovviamente non mi è passato perché non nonostante ero un medico all'epoca della comunità europea che eravamo tutti in comunità europea non è stato mai accettato fermi 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 un'altra cosa mamma mia quanti spunti Alessandro chiedo scusa rischio di essere maleducato ma sta dicendo una marea di cose che sono importanti altro database che ho creato è quello dei medici stranieri devo ammettere non l'ho pubblicizzato molto è una cosa appena nata c'è quello dei medici stranieri ad esempio conoscete un medico vivete all'estero molti miei pazienti vivono all'estero conoscete un medico all'estero che potrebbe essere disponibile pure fosse lo zio il cugino non ci serve neanche questo autorino ci serve uno che compila una prescrizione perché la prescrizione mia molto spesso non è riconosciuta in altri paesi anche nell'Unione Europea in realtà dovrebbe esserlo di legge ma provate ad andare in Germania io col mio tesserino di ordine dei medici italiano vado in Germania e si rifiutano di darmi farmaci a me per l'uso personale mi rispondono un medico tedesco in Lettonia dove ufficialmente io ancora abito è la stessa cosa se ne fregano di la legge io mi sono all'epoca mi sono scontrato col mio medico di famiglia perché mi diceva che nonostante lei era un medico della Comunità Europea comunque loro dovevano essere attaccati al trattamento dell'Inghilterra è manco per niente per l'Inghilterra se per quello non ha manco mai rispettato un sacco di altre cose che obbligavano l'Unione Europea ma tanto è bastato però parla male della scuola della quale uno è divorziato però anche quello pubblicizzerò anche questa cosa aiutatemi a creare perché se no ogni paziente italiano anche italiano che vive all'estero ci troviamo con lo stesso problema però gli italiani si fanno spedire i farmaci dall'Italia dal parente che c'hanno in Italia o dalla cosa per cui in qualche maniera risolta io così altra forma di solidarietà e non solo le iniezioni qui non si mettono normalmente è legale è legale è legale in Italia ho pensato trovare una persona che mi facesse la puntura l'ho fatta da sola davanti allo specchio che non sto a raccontarvi i dettagli però ce l'ho qua però in realtà è vietato pure comprarsi le siringhe in Inghilterra perché per lì infatti è arrivato tutto dall'Italia comunque cortisone fatto da solo davanti allo specchio negli Stati Uniti perché se vivessero negli Stati Uniti non può ricevere farmaci dall'estero li bloccano e li mandano indietro li prendono una schifosa cosa economica perché costano molto più i farmaci in America e vogliono una cosa anche quello è una forma di risolvere il problema posso dare è vero che non ti ho rotto 5.000 volte ma se devi dire altro se no do la parola di poco soldi ma cosa c'è nella sorte di recidiva dell'anno scorso noi abbiamo rifatto solo dieta con carico idrico senza neurofarmaci ed è funzionato quindi io i neurofarmaci non li prendo più da quell'unica volta che ho fatto terapia due anni fa ecco le mie domande come dicevo prima io vado molto a braccio in base alla situazione è bello invece avere dei protocolli automatici capito da dire hai questo facciamo questo oddio questa è la mia domanda questa è la mia domanda io solitamente dormo dalle 5 alle 6 ore che sono poche riuscivo solo a dormire le 8 ore soltanto quando sono stato sotto terapia diciamo e grazie ai neurofarmaci quindi è una sorta di domanda io non vorrei prendere i neurofarmaci per poter dormire leggermente meglio 8 ore non è che sto chiedendo chissà cosa ma lo so che dormire 5-6 ore non è abbastanza e quindi sicuramente nella gestione dello stress quello non aiuta di sicuro quindi le due domande sono come mi devo comportare questo fatto di poter dormire di più l'ho fatto solo durante il periodo di terapia grazie ai neurofarmaci e due se lei come vede la persona sbagliata perché parla con uno che salta le notti a volte perché smette a lavorare la persona sbagliata io ho un'insonnia perenne nel senso che in realtà e poi magari recupero dormendo io dico io sono andato sono andato a letto alle 5 stanotte perché ho dovuto preparare le cose dell'area paziente e tutto quanto mi sono svegliato spontaneamente oggi alle 11 con tutto che ero distrutto di stanchezza avevo messo la sveglia a luna ho detto mi basta perché da me adesso sono le 6.20 e per cui sta parlando con uno che proprio il sonno non lo rispetta per niente però in linea di massima cerchi di capire quali sono i motivi per cui dorme poco a me se dormisse tutte le notte basterebbe ma avanzerebbe non ho problemi questa dipendenza con l'apparecchio o questa idea che io che mi faccia meglio mi sento meglio mi fa molto meglio per la cuffene l'apparecchio questo qua quello ci sta ecco questa è una spuntura del presente il problema sui costi in Italia però ad esempio può teoricamente l'uso di una protesi acustica o di un mascheratore di rumore che però per il mascheratore uno teoricamente scarica una con un cap nel telefonino o una cosa dunque può aiutare ma certo lo può aiutare non è la terapia però perché dovete stare male nel frattempo chi ha un'ipoacusia presente da anni ad esempio che ci vuole comunque tanto tempo riuscire a fare qualcosa non è che devi dire no devo fare la terapia dottor la torre non metto le protesi ma il problema è che o andate in Inghilterra o pagate in barca dei soldi ma tanti 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 qui magnano magnano come non mai quasi mille ok ma c'è no mi chiedo scusa per 200 interruzioni ma tra poco se ne fanno chiacchierata e le cose grazie a tutti